Como e musica per celebrare la festa dell'Europa. Studenti delle scuole, accanto ai professionisti del teatro sociale, dell'Accademia Giuditta Pasta e del Conservatorio, tutta Como risuona di notte in occasione degli European Opera Days, esibizioni dal vivo per celebrare la festa dell'Europa il 9 maggio, con un'iniziativa che ogni anno impegna i più importanti teatri lirici europei nella promozione della musica a un pubblico più vasto. L'ottava edizione coinvolge in Italia sette città, in Lombardia oltre a Como ci sono Cremona e Pavia, tema quest'anno la lirica viaggia in città. L'associazione lirica concertistica italiana e il teatro sociale propongono dunque viaggi musicali utilizzando tutti i mezzi di trasporto, 400 cantanti e musicisti coinvolti. Buona idea per la lirica? Sicuramente, sicuramente, con le stesse cose si faccia per come una buona idea, purché si muove un po' la città. L'opera fa paura, invece va avvicinata specialmente ai giovani. Arie di operetta alla stazione ferroviaria di San Giovanni, altre tappe, altra musica all'imbarcadero dei Battelli, alla funicolare e alla stazione degli autobus, trasformati in teatri estemporanei all'aperto. C'è un rapporto molto diverso in questo genere di contatto, un contatto molto vicino, molto emozionale, e quindi poi l'idea è che tornino nei teatri ad ascoltare l'opera e gli spettacoli. Per Como è l'occasione di festeggiare anche il premio Musica Partecipata, ricevuto poche settimane fa a Londra ai prestigiosi International Opera Awards. Grazie per l'attenzione e una buona serata. Grazie per l'attenzione e una buona serata.